oh vai buongiorno che giornata eh oggi che giornata ragazzi che che c'è ma che scherzi no io la mattina non ce la fai a mangiare succhere rosso perché mi da annoia preferisco mangiare la roba salata o bellini per piacere ma di prima mattina ma non mi dà neanche la parola oi oi che giornatina eh che giornatina ma oggi ragazzi gas gas stasera stasera siamo a vicchio fa la sera a vicchia il lago viola tra l'altro mi voglio fermare mi voglio fermare tu verrai a pigliare su un mercato c'è l'offerta sui tonno almeno stasera mi pensavo se c'è su uno spaghettino stasera aglio e peperoncino un po di tonno fresco ma ti già hai ragionato di mangiare a quest'ora o no o sta a fare una bella anche due fagioli per me anche due fagioli per dire si può sta a fare eh che tu ne pensi non spiace Ale perché c'è la mia annoia chiudi la bocca ma non uhhhhh ere oh, e mi d'annoia allora bucaioli ci si vede sabato fattordici dicembre nel lago Viola a Vicchio Barbellino di Mugello, andate su Facebook cercare l'evento e prenotate saremo, saremo, saremo io ci sono, lui non lo so, ora che ve lo ha il 112 ve lo fa anche a del tele Sabato 14 dicembre a Vicchio, provincia di Firenze Toscana, Maremma, Maiala Show presso il Lago Viola per info e prenotazioni 351 50 40 715 Bucaioli, c'è le faste